Riparte il nuovo Taranto per la stagione 2020-2021. Nel corso di una conferenza stampa svolta nella mattinata di sabato presso il circolo sotto ufficiali della Marina Militare, sono stati presentati alla stampa il nuovo allenatore Giuseppe La Terza, proveniente dal Fasano, il direttore sportivo Francesco Montervino. Per lui si tratta di un ritorno in rosso-blu dopo le esperienze da calciatore e da dirigente nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016. Lo staff tecnico di Mister La Terza sarà completato dall'allenatore in seconda Giuseppe Lentini, dal preparatore atletico Francesco Rizzo, dal preparatore dei portieri Giovanni Indiveri. Presenti tra gli altri alla conferenza stampa il presidente rosso-blu Massimo Giove, il suo vice Vincenzo Sapia Vittorio Galigani, consulente esterno del club, e il dottor Giuseppe Volpe, responsabile dello staff sanitario, oltre ad alcuni dirigenti del settore giovanile. Queste le prime parole del tecnico La Terza e del DS Montervino. Per me non è un punto di arrivo, sicuramente. Per me è un punto di partenza importante, ho la stessa ambizione di questa società. Un'ambizione importante, si sta organizzando bene per fare qualcosa di importante, io ne sono molto contento di farne parte. Non vengo in una piazza così importante solo e esclusivamente per mettermelo nel curriculum. Vengo per dare qualcosa di mio, vengo perché ho visto negli occhi del presidente una grande voglia di vincere. Per quanto mi riguarda sono un tipo ambizioso, sono un tipo che vuole fare bene, sono un tipo che vuole emergere. Penso che questa per me è una possibilità importantissima e me la giocherò alla grande. Sicuramente, non posso e penso che nessuno può garantire dei risultati, ma dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'ambizione, dal punto di vista della voglia di fare qualcosa di importante, con il mio staff ce la metteremo tutta ogni giorno. A chi mi fa la domanda a che squadra faremo, a chi mi fa la domanda vinceremo, io rispondo come ha risposto il presidente, noi faremo del nostro meglio. Per chi come me ha tanta esperienza e su questo credo che me ne possiate dare atto, vincere non è mai facile. E soprattutto proclamare vittoria prima, secondo me, è una delle cose peggiori che si possa fare. Indubbiamente noi cercheremo di essere competitivi, cercheremo di essere aggressivi, è un termine giusto, perché la squadra deve rispecchiare quella che è la proprietà, quella che è la direzione tecnica, quella che è la mentalità di tutta la tifoseria tarantina, aggressiva nel senso lato, nel senso sportivo, nel senso che si vuole cercare di dare un'identità ben precisa alla squadra.